Sono diventato pigro, solo Sonia lavora, io mangio, bevo, dormo. Me lo puoi servire in camera, per favore? Si riempie la bocca d'arte, non ha minima idea di che cosa sia. Please stay there. Dice che le foreste sono la gemma della terra. Io quando pianto una betulla, allora io mi sento fiero. Ho ricevuto un pacchetto oggi da New York. La felicità l'ho abbandonata, ma l'orgoglio no, quello mi rimane. A lei invece? Vanni, lo sai perché noi due siamo amici? Perché tutte e due siamo persone grigie e monotone. Sei giorni, bella, sana, piena di vita. Io sono invece un vecchio, quasi un cadavere, è quasi una provocazione essere ancora in vita. Ci sveglieremo con il temporale, lei si spaventerebbe per il colpo e la braccia lei. E tu lo sai cos'è il talento? È coraggio, libertà, grinta. E tu lo sai cos'è il talento? E tu lo sai cos'è? Grazie a tutti.